Trovare lati positivi alla crisi è a dir poco difficile, eppure, secondo i dati diffusi oggi dalla Coldiretti, è proprio il caso di dire che qualcosa di buono c'è. Gli italiani infatti sembrano aver riscoperto il gusto di fare le conserve fatte in casa. Marmellate, sottaceto, passate di pomodoro, 9 milioni di italiani, fanno sapere dalla Coldiretti, proprio in questi giorni sono a lavoro tra pentole e basetti nella preparazione di conserve fai-da-te per un'alimentazione più genuina e naturale, ma anche per alleggerire i costi in tempi di crisi. Per fare un esempio semplice, una famiglia che decide di fare in casa la passata di pomodori riesce a risparmiare in un anno circa 200 euro. Se a questo si somma qualche vasetto di marmellata e qualche sottaceto, il salvadanaio diventa interessante. Ma le esigenze legate al bilancio familiare non sono le uniche ragioni che spingono le famiglie italiane ai cibi fatti in casa. L'altro aspetto riguarda l'alimentazione sicuramente più naturale, senza conservanti o additivi. La vera novità, spiegano dalla Coldiretti, è che ad essere più interessati ai cibi di una volta sono i giovani. Sono soprattutto loro a chiedere suggerimenti e consigli. Un bisogno di informazioni sulla preparazione dei cibi che è dimostrato dal fatto che più di 20 milioni di italiani dichiarano di informarsi su internet o in televisioni su come preparare le conserve fatte in casa.